salve a tutti bella gente benvenuti e bentornati sul mio canale io sono mansieri mio e oggi sono qui per un video super speciale vedete questo casino perché devo preparare un pacchettino perché per voi due giorni fa per me oggi è il compleanno di emanuela e mi è arrivato il regalo che l'ho preso dopo andare lo devo impacchettare perché ovviamente me l'hanno mandato nel packaging quello la nuovo quindi non mi piace le voglio dare una bella scatola e altri accessori che io ho accumulato nel tempo ne ho tanti e quindi glieli voglio regalare anche lei perché magari qui può mettere i suoi anelli eccetera con questo può pulire insomma le voglio dare un po di gadget perché ancora non conoscesse manuela e manuela è la fidanzata di mio fratello e la conoscete benissimo se ci seguite su instagram perché facciamo sempre le storie e le live insieme e se non ci seguite ancora vi lascio il nick qui comunque trovate il link nell'info box allora perché questo pacchettino è stato un odissea ve lo voglio spiegare piano piano nel video mi è arrivato comunque in questa scatolina che stanno utilizzando ultimamente e poi ovviamente mi hanno inviato il tutto nel pacchettino questo nuovo che io appunto non gradisco particolarmente quindi le voglio dare un pacchettino più consistente come quelli di una volta e vi voglio raccontare un po che cosa è successo mentre prepariamo il tutto però vi riservo l'effetto sorpresa perché farò riprendere la scena a mio fratello mentre gli da il regalo quindi poi vi faccio ve lo faccio far vedere da loro insomma vi faccio solamente dare uno sbirciatina perché così capiamo di cosa stiamo parlando ok ok passiamo alla preparazione del pacchetto ok bella gente come potete vedere ho già preparato il bigliettino molto semplice questi fiorellini con la carta vado a fare l'ultimo poi scriviamo il bigliettino ma nel frattempo che completo questo vi volevo raccontare cos'è successo con questo bracciale praticamente quando l'ordinei ancora erano in atto i saldi quindi era penso l'1 e il 2 febbraio che stavano proprio per finire l'ordinato il penultimo l'ultimo giorno e ok niente a posto l'ordinato quando mi è arrivato però ho notato subito che aveva dei problemi dal punto di vista della chiusura e vi lascerò sicuramente qualche clip che ho girato di quel bracciale molte di voi sicuramente lo sanno perché ne ho parlato tantissimo sia sui grippi di facebook sia con alcune ragazze qui che hanno magari il canale su youtube chiedendo appunto se anche loro il loro bracciale che della stessa tipologia di questi con il lucchetto se faceva quella sorta di movimento si è scoperto essere un difetto del mio bracciale e quindi ho preso e ho contattato il centro assistenza pandora e glielo rimandato indietro e quando mi è ritornato il nuovo bracciale era praticamente usato secondo me prendetela con le pinze questa espressione però secondo me era un qualcosa che qualcuno ha indossato e poi non ha voluto più e l'ho rimandato indietro perché sulla parte del retro del lucchetto c'era un graffio vi lascio sempre comunque delle clip delle foto qui da qualche parte nel video per farvi capire in che condizioni mi arrivava la roba la seconda volta io arrabbiatissima perché mancava pochissimo alla data del compleanno avevo timore che poi con l'esplosione del virus che non arrivasse in tempo e niente ricontato il centro clienti mi lamento mille ore perché la prima volta non avevo fatto altro che raccomandarmi di farmelo arrivare integro perché era un regalo eccetera eccetera che cosa è successo che loro mi danno ok non vi preoccupate sicuramente arriverà in tempo bla 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 prende glielo rimando indietro e alla fine mi è arrivato questo qua questo qua la chiusura è perfetta però appena mi è arrivato io ho notato che praticamente da un lato se voi avete delle dei bracciali dello stesso tipo potete capire il pernino che tiene il bracciale quello snodabile la piccola parte si muoveva tantissimo e praticamente quasi quasi che veniva fuori il il pernino dal bracciale c'è proprio quasi quasi che veniva fuori c'è sempre forse un video spero di sì allora io che ho fatto spazientita perché ormai mancava pochissimo alla data del compleanno ho preso con le mie pinze prestando moltissima attenzione ovviamente l'ho stretto ho stretto il pernino in modo che non potesse sfuggire dalla parte centrale c'è qua era troppo largo e rischiava di venire fuori va io ho preso lo stretto e per il momento lo regalo così ad emanuela ovviamente glielo dirò che ho fatto questa cosa è se lei vorrà comunque cambiarlo con un'altra cosa oppure ci facciamo fare il reso e magari vuole prendere qualcosa di troll biz lo può fare tranquillamente quindi ok della gente io ho finito di fare il pacchettino con questo super mega fiocco ho scritto il bigliettino e ho attaccato i miei fiori di carta adesso vado a richiudere il tutto e vi lascio lo spezzone di video che farà mio fratello vi lascio un grosso bacio e noi ci vediamo giovedì con il prossimo video ciao e che cos'è che cos'è che cos'è che bello mi mi piaceva mi mi che bello mi mi bello bellissimo bello ma state fermi pezzoni vado a vedere a chiusura che bello tipo una servalucchetto sono tutti invadenti che bello e brilla però vedi che è delicato dai mettilo però adesso mettilo però vedi che è delicato aspetta qua c'è la mamma ciao aspetta i rumori sensuali di sottofondo tra i cani che si amano ok bello bella di che bello di che bello e vi presentiamo il nuovo modello di pandora è agile è forte e vuole sempre morte come vedete così è il bracciale indossato a me cade giusto qua entra solamente un dito ma io non credo che metterò dei charm o delle cose simili perché il bracciale è molto bello già da solo e quindi non penso che metterò niente in questo lo lascerò così semplice con questo è tutto io vi saluto ciao ciao